Raduna intorno a sé. Che cosa avviene al momento dell'incarnazione? Commento. Il sentire attraversa il piano mentale, il piano astrale, per arrivare a quello fisico. Nel compiere questo percorso, raduna intorno a sé la materia di questi piani di esistenza? Prima la materia mentale, poi la materia astrale, che al momento dell'incarnazione si uniscono alla materia fisica, al corpo fisico. Gli ordini per la costituzione del corpo mentale, astrale e fisico dell'individuo che dovrà nascere sono dati dal sentire, dal piano acasico, dal corpo della coscienza. Questo avviene a volte consapevolmente, a volte inconsapevolmente, secondo l'evoluzione dell'individuo che si deve incarnare e sotto la spinta dei suoi bisogni evolutivi. Grazie. 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 Grazie.